Ed in Dzeko, ma che capelli ho? Ed in Dzeko è in scadenza, intanto il mio telefono fa come... ma davvero stavo... Ed in Dzeko è in scadenza ragazzi, Ed in Dzeko è in scadenza nel 2020, pare che la Roma non voglia rinnovargli il contratto, pare che finirà sul mercato direttamente a giugno, però attenzione è in scadenza nel 2020, questa è la stagione 2018-2019, quindi questo fine anno non andrà in scadenza, quindi questo fine anno sarà ancora un giorno della Roma anche l'anno prossimo, però ovviamente la Roma non gli vuole rinnovare il contratto, lui vuole essere al centro del progetto, questo fa pensare come probabilmente Ed in Dzeko a giugno andrà ceduto, cioè verrà ceduto per forza di cose ragazzi, quindi Ed in Dzeko finisce sul mercato e l'Inter si fa su di lui, l'Inter si avvicina al giocatore, l'Inter vuole il giocatore, l'Inter è interessata ed in Dzeko, perché? Ora bisogna vedere perché pare che Icardi abbia ricucito, ma lì c'è un discorso da fare abbastanza largo, abbastanza ampio, se Icardi dovesse partire, l'Inter come società potrebbe pensare di dare tutto in mano a Lautaro Martinez come titolare e poi mettergli dietro a Ed in Dzeko, nel senso gioca a Dzeko, gioca a Lautaro, però un conto è avere Riccardi che deve fare tutte le partite, tutte le gare dall'inizio fino alla fine, un conto è avere invece Ed in Dzeko che è un giocatore che comunque ha i suoi 33 anni, che ha le esperienze importanti che all'Inter potrebbe far comodo in Champions League e poi c'è l'esplosività pazzesca di Lautaro Martinez e questa ragazzi potrebbe essere un'ottima cosa, ora però ovviamente ve ne parlo da romanista, che ne penso io da romanista? Secondo me è giusto che Ed in Dzeko vada via? Allora ragazzi, Dzeko a Roma è nervoso, gli rode il culo dall'inizio fino alla fine, litiga con i compagni, con i compagni, litiga con l'allenatore, litiga con lo staff, litiga con i tifosi avversari, litiga con i propri tifosi, risponde male, fa di rimedi, se incazza con la gente, raga Dzeko a Roma adesso non è felice, ok? Ed è uno dei quei giocatori che se gli agambi qualcosina, che se gli allevi qualcosina, che se qualcosina non va, lui va subito in palla ed è una cosa che per me non può essere assolutamente accettabile, ok? Inoltre metti che l'età avanza, inoltre metti che comunque è un giocatore che in questo momento deve essere rimpiazzato per il futuro perché la Roma come vice Dzeko a Scicca che non butta dentro il pallone manco con le mani, mannaggia a me quando ho detto che faceva 20 gol quest'anno, quindi è normale che la Roma debba proiettarsi sul mercato, ovviamente per me se tu vuoi sostituire Dzeko devi prendere un giocatore già affermato c'è un giocatore che abbia 27-28 anni, che comunque lo butti nella mischia e comunque è già pronto per farti vincere le partite, ok? Questo non può essere Belotti, cioè magari l'anno prossimo viene Belotti e la Roma fa 30 gol e sto zitto però questo non può essere Belotti, per il semplice fatto ragazzi che Belotti deve integrarsi a Roma che comunque dici tutti i giorni devono integrarsi a Roma, sì ma lui già fa fatica a Torino, pensa a Roma poi Torino è una piazza un po' particolare, spesso si fa bene a Torino e quando si esce in video Gbonna si fa fatica poi quindi lo stesso Cerchi, lo stesso Immobile che ora finalmente sta facendo bene alla Lazio ma dovunque andava fuori da Torino faceva male quindi insomma Torino è una piazza un po' particolare, Belotti è un giocatore che potrebbe darti tanto però va valutato tanto, ok? Chi è un giocatore che in questo momento a me nemmeno viene, in realtà già tu dovresti andare a spendere tanto gli prende pedite Iguain, gli spende 50 milioni di euro per prendere un giocatore che comunque è già pronto però anche lui comunque sta andando a P31, 32 anni, quanti anni già quindi insomma sarebbe un andare a spendere tanto per non andare ad abbassare l'età media ed è una mossa che difficilmente se non proprio quasi in modo impossibile la società Roma farà fatemi sapere comunque la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto è piaciuto il video da lasciare, un mi piace in caso conto di un dislike, grazie per aver visto questo video buon salallallene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video